7 e 8 giugno 2014, questa volta da Piazza Castello, benvenuti alla seconda edizione della Baby Run. A piedi o in passeggino, la corsa del bambino. Direi che sta andando benissimo, la prima edizione dell'anno scorso ha creato il terreno fertile per questo incontro, quest'anno vuole due giorni, direi che stiamo incontrando veramente tante famiglie. È fondamentale sia per invitare i genitori e i bambini a essere attenti all'attività sportiva, perché è fondamentale per il benessere fisico, sia mentale del bambino che dei genitori. Sta andando molto bene e mi sembra una giornata molto positiva. Spero che la mia fidanzata non ascolti, però fa quasi venire voglia di fare dei bambini. Quindi mi sembrava una cosa carina perché le mamme gareggiano insieme ai bambini, fanno la corsa insieme. Si preparano da mesi. Mi sembra una manifestazione di senso, perché ci sono genitori, bambini, quindi famiglia, in piazza le famiglie e soprattutto con un significato importante, fare sport e stare insieme. Quindi per me è una manifestazione da ripetere. Allora, fino ad oggi noi ci godiamo questa meravigliosa giornata, questo straordinario successo da tutti i punti di vista. Poi inizieremo a progettare la prossima edizione della Baby Run. Sicuramente vogliamo apportare qualche modifica, aggiungere qualche ulteriore novità, ma è presto per parlarne.